Musica Buona domenica e benvenuti al consueto riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 2 ottobre, presidio di protesta dei centri sociali in solidarietà del popolo catalano di fronte al Consolato Onorario Spagnolo a Palermo. Catalogna rossa, Catalogna libera, Catalogna libera! Un presidio sotto il Consolato Onorario Spagnolo, perché? Perché oggi in Catalogna sta succedendo qualcosa di grave ma allo stesso tempo di entusiasmante. Grave è la reazione che lo Stato Spagnolo sta mettendo in campo contro le legittime aspirazioni all'autodeterminazione del popolo catalano. Meraviglioso perché i catalani stanno resistendo in una maniera incredibile, anziani, bambini, giovani, tutti uniti, per difendere il proprio diritto al voto, il proprio diritto alla libertà. Questa Europa come reagisce? Quest'Europa lo stiamo vedendo tutti come reagisce. Oggi la Catalogna sta mettendo in discussione l'ordine europeo, un ordine fatto di governi accentratori che vogliono tutto il potere nelle loro mani. La Catalogna sta provando ad affermare un modello diverso, un modello di sviluppo differente. Di fronte alle minacce e alla repressione dello Stato Spagnolo di Raoy e dei franchisti che lo appoggiano, l'Europa sta in silenzio. L'Europa non dice nulla e allora si disvela, viene fuori il suo vero volto. Questa Europa non vuole concedere i diritti e la libertà ai popoli che ne fanno parte. E allora siamo al fianco dei catalani anche contro questa Europa e contro questo governo spagnolo. Il valore dell'identità mediterranea nel mondo, questo uno dei più importanti temi affrontati nel corso dell'Expo Blue Sea Land che si è svolto a Mazzara del Vallo. La dieta mediterranea come stile di vita, educazione alimentare e sostenibilità dei nostri prodotti. Il modello Isle Slow ad esempio rientra in questa filosofia di pensiero. Far interagire ristoratori e pescatori nella microzona di ciascun'isola. Il nostro mare deve diventare il mediterraneo delle genti. È giusto che questo mare diventi un mediterraneo delle genti perché tutti possono lavorare per tutelare una risorsa con grande valore ambientale, economico e turistico. Abbiamo un intiturismo che è qui vicino, lo possiamo trovare a Trapani. Da tre marinai adesso hanno prodotto altre 13 unità a terra al ristorante. Pesce azzurro, ma non solo, anche i carboidrati devono essere rivalutati perché importantissimi nella nostra alimentazione. Il carboidrato non fa ingrazzare. Certo bisogna sceglierlo bene, scegliere una farina integrale che ha basso indice glicemico. Portare in giro un modello che è stato lo stile di vita dei nostri padri è un'abitudine che non dovremmo mai tralasciare. E' quello stile di vita che non è solo un modello nutrizionale che significa ritornare al prodotto enogastronomico di prossimità. Forse non tutti sanno che uno dei problemi dei popoli del bacino del Mediterraneo è la fame nascosta. Fame nascosta che è determinata dalla carenza di micronutrienti e che è legata al consumo, diciamo, a un modello di consumo basato su una dieta eccessivamente semplificata. Tra le iniziative e i progetti presentati al workshop anche la stazione enogastronomica. Noi vogliamo raccontare il territorio. Daremo la possibilità ai nostri ospiti di avere un'idea molto bella del territorio. Attraverso il racconto hanno la possibilità di memorizzare quello che hanno gustato e quello che hanno sentito. Alessandro Bonaccorsi, conosciuto come Alle Tattoo, tatuatore entrato più volte nel Guinness dei Primati, approfondisce nel libro Esemi Tatuassi la sua filosofia del tatuaggio. Tatuaggio, filosofia di vita, appartenenza o moda? Un fenomeno inarrestabile che coinvolge circa il 12,8% degli italiani, in base ai dati rivelati dall'Istituto Superiore della Sanità in collaborazione con IPR Marketing, che ha preso in esame un campione di quasi 8.000 persone. Ne abbiamo parlato con Alle Tattoo, Alessandro Bonaccorsi, tatuatore di fama internazionale, entrato più volte nel Guinness dei Primati. Per tanti record strani, ha affermato lo stesso Bonaccorsi, il penultimo in volo acrobatico in America, mi sono autotatuato a una gamba a 2.000 km orari. Alessandro Bonaccorsi, oltre a essere un record man del tattoo, è l'autore di Esemi Tatuassi, edito da Mondadori, nel quale l'artista si è prefisso l'obiettivo di elevare la conoscenza sul tatuaggio. Il tatuaggio è una filosofia di vita e sta diventando per tantissime persone, si parla di più di 7 milioni all'anno in più in Italia. Una filosofia di vita, una passione e un enorme piacere nel decorare il proprio corpo. Negli ultimi anni sicuramente si è perso il senso primordiale del tatuaggio. E in effetti questo libro qua è stato preso un po' come bibbia degli inchiostrati, proprio perché spiega quello che è stato sorpassato dalle mode, nel senso che adesso le mode decidono la storia di un tatuaggio, invece noi abbiamo voluto scrivere qual è la storia del tatuaggio per influire sulle mode. Prima il tatuaggio era anche appartenenza. Sì, il tatuaggio ancora adesso è appartenenza, basta pensare dai grandissimi gruppi motociclisti, basta pensare anche semplicemente ai tifosi, di quanti si tatuano il logo della propria squadra del cuore, o addirittura di un'appartenenza molto più piccola, ma molto importante come la famiglia, il nome del proprio caro, il nome della figlia, o i classici disegnini che stanno andando tanto di moda, che sono l'uomo e la donna stilizzata con il bambino. Lei ha voluto interpretare anche il tatuaggio in un modo diverso, ha fatto inserire il suo modo di tatuare nei Guinness dei primati. Sì, diciamo che più che interpretare, diciamo che mia mamma ha sempre detto che non sono tanto normale, abbiamo confermato questa teoria, abbiamo fatto tanti Guinness dei primati, abbiamo fatto tanti record strani, il penultimo, molto particolare, ho tatuato in America, in volo acrobatico, mi sono autotatuato una gamba a 2000 km orari e l'ultimo dell'anno invece ho fatto una sessione di tatuaggi la più lunga al mondo, dove ho tatuato dal 31 sera fino al 2 sera, facendo quasi 58 ore consecutive senza mai fermarmi. Qual è il messaggio che trasmette attraverso questo libro? Il libro fondamentalmente è un oggetto che la gente può tenere come culto e per le persone non tatuate un qualcosa per capire perché i tatuati si tatuano e avere una conoscenza in più. Per le persone invece che si vogliono tatuare di creare un po' più di conoscenza e ho provato a far scrivere dentro al nostro libro altri dieci artisti che hanno messo la loro parola per cercare di alzare il livello della conoscenza del tatuaggio in Italia. A volte il tatuatore che crede nella filosofia del tatuaggio è il primo a dissuadere qualcuno che si voglia tatuare per la prima volta. Questo è verissimo se una persona è appassionata di tatuaggi ed è un operatore del settore tende tendenzialmente di fare il tatuaggio perfetto perciò si cerca di stare attenti con i ragazzi sotto i 20 anni perciò si cerca di consigliarli sulla posizione si cerca di non fargli fare tatuaggi sbagliati. Il primo tatuaggio è arrivato la mattina dei miei 16 anni come prediente regalo di compleanno accompagnato da mamma siamo arrivati in studio tremavo come una foglia abbiamo firmato la liberatoria abbiamo guardato lo studio e mamma una volta convinta si è seduta va bene ci vuole fare. Quanti tatuaggi hai? Momentaneamente otto. Il mio prossimo tatuaggio oddio in cantina ce ne sono un bel po' e alla fine tutti mi capiranno che è sempre solo una questione di soldini è solo lì il problema onestamente ho un forte amore per il traditional e mi sono innamorata di un orso a tre teste che vorrei fare sul bicipito a sinistro. Martedì 3 ottobre continuava a gestire il centro commerciale confiscato arrestato l'imprenditore Giuseppe Ferdico. Nonostante la confisca subita l'imprenditore Giuseppe Ferdico avrebbe continuato a gestire una parte dei beni grazie alla complicità di alcuni prestanome e soprattutto dell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale. E così finisce in carcere insieme ad altre quattro persone nell'ambito di un blitz del GICO della Polizia Tributaria. Arresti domiciliari per il commercialista Luigi Miserendino scelto dalla sezione misure di prevenzione per gestire il patrimonio del re dei detersivi. Sono ritenuti responsabili a vario titolo di intestazione fittizia di beni, favoreggiamento personale reale ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. La legge obbliga l'amministratore giudiziario a recidere infatti ogni legame con la gestione passata ed invece Miserendino avrebbe portato avanti i rapporti con Ferdico che attraverso alcune teste di legno avrebbe affittato il ramo d'azienda di un centro commerciale a Carini. Continuava a decidere praticamente ogni cosa sfuggendo al controllo del tribunale. Proprio nei mesi scorsi è scattata la confisca di un patrimonio stimato in 400 milioni di euro che comprende oltre a terreni, ville e appartamenti anche le SRL Ferdico, GV, Feda, GNO, Supermercati, 3F e Sole Distribuzione. Ferdico è stato assolto dall'accusa di essere un matioso ma gli sono stati confiscati i beni perché le sue aziende sarebbero state spinte dal denaro dei clan. Soldi che gli avrebbero consentito di diventare leader nel mercato acquistando a prezzi super vantaggiosi. Per il re dei detersivi nel 2014 il pubblico ministero aveva chiesto otto anni di carcere dopo che per tre volte la stessa procura aveva chiesto l'archiviazione sostenendo che non ci fossero gli elementi per mandarlo a giudizio. A suo carico adesso però i giudici citano le dichiarazioni di una serie di collaboratori di giustizia tra i quali Onorato, Galatolo e Spataro che lo descrivono come imprenditore pronto a dare il suo contributo ai clan e disposto a ripulire soldi sporchi. La sua vicinanza alle cosche gli avrebbe consentito di imporsi sul mercato e gli avrebbe garantito una rapida espansione e un accesso al credito bancario. All'ascesa imprenditoriale di Ferdico scrivono i magistrati risulta associata la costante capacità di meritare la fiducia di numerosi esponenti di spicco della consorteria tanto da inserirsi a pieno titolo tra i riciclatori del denaro di una delle famiglie mafiose più radicate nel tessuto economico della città come quella dell'Acqua Santa. Il collegio sottolinea inoltre i rapporti tra Ferdico e i boss di San Lorenzo Salvatore Sandro Lopiccolo nel provvedimento si definisce l'imprenditore socialmente pericoloso e gli si impone la sorveglianza speciale per tre anni e sei mesi. Ricordate a Lampedusa i 368 migranti morti nel naufragio di quattro anni fa alla marcia per la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione anche il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli e il presidente del senato Pietro Grasso Forse non tutti in Italia ricordano l'articolo 10 della nostra Costituzione quello che sancisce un diritto universale il diritto d'asilo all'astroniero al quale nel suo paese si è impedito l'esercizio della libertà e allora non solo chi fugge alla guerra ma anche chi scappa dalla povertà dalla fame dalla violenza a diritto d'asilo io oggi sono qui per ribadire la volontà delle istituzioni tutte ad andare avanti su questa strada per realizzare questo sogno dei nostri padri costituenti si deve camminare molto sulle nostre e sulle vostre gambe queste le parole con cui il presidente del senato Pietro Grasso ha dato il via alla marcia a Lampedusa verso la porta d'Europa il monumento all'immigrazione che ha detto ancora Grasso deve essere considerato come l'inizio e non la fine dell'Europa accanto a lui il ministro della pubblica istruzione Valeria Fedeli ed i superstiti della strage in mare del 2 ottobre 2013 quattro anni fa il naufragio che costò la vita a 368 migranti oltre a Grasso e Fedeli anche il delegato dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per il sud Europa e il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello davanti alla porta d'Europa si è celebrato anche un momento di raccoglimento con padre Mussiezerai e l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro infine la commemorazione in mare a bordo delle motovedette e la guardia costiera e delle barche dei pescatori di Lampedusa il ricordo del naufragio iniziato sabato scorso con l'arrivo a Lampedusa di 200 studenti non solo italiani ma anche austriaci francesi maltesi e spagnoli per confrontarsi e approfondire i temi dell'immigrazione dell'integrazione dei diritti dei rifugiati e del richiedente asilo il progetto al suo secondo anno è promosso dal MIUR in collaborazione con il comitato 3 ottobre ed è reso possibile grazie all'impegno del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione gestito dal Ministero dell'Interno inaugurata infine la sezione giovani del Museo della fiducia e del dialogo che raccoglierà opere artistiche fotografiche e video testimonianze e testi in verso e in prosa prodotti dalle ragazze e dei ragazzi ZTL a Palermo centinaia le multe nella prima settimana di attivazione delle telecamere nei cinque varchi di accesso in una settimana di telecamere attive nel perimetro della zona traffico limitato a Palermo in centro storico sono quasi 14.000 le auto che saranno sottoposte a ulteriori modifiche perché sospette ossia non inserite nella lista bianca dei possessori di passe e quindi sulla carta multabili numeri altissimi che dimostrano come ancora moltissimi palermitani non abbiano recepito la disposizione annunciata in grande anticipo dal comune gli accessi in tutto dai cinque varchi di Piazza Verdi via Gaggini via Vittorio Emanuele via Portosalvo e via Roma sono stati 56.170 42.184 validi circa quindi il 75% mentre 13.986 soggetti a verifiche i transiti da lunedì scorso sono aumentati giorno per giorno ed è anche cresciuto il numero di abbonamenti e di pass giornalieri utilizzati dagli automobilisti l'incremento dei transiti è stato del 44,53% di quelli validi del 54,11 bisogna ricordare inoltre che insieme alle telecamere ormai attive continuano anche i controlli dei vigili urbani su strada la ZTL è attiva da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 nel perimetro compreso da Porta Nuova a Porta Felice da Piazza Giulio Cesare a Via Cavour ai trasgressori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente per la circolazione in ZTL di veicoli non autorizzati Euro 0,1 e 2 alimentati a benzina o Euro 0,1 e 2 e 3 alimentati a gasolio si pagano 164 euro i veicoli non autorizzati Euro 3 e superiori alimentati a benzina o Euro 4 e superiori alimentati a gasolio 81 euro sosta in ZTL di veicoli non autorizzati 41 euro si parla dunque di centinaia di multe in soli 7 giorni sulla questione interviene anche l'unione dei consumatori purtroppo è risaputo dichiara il presidente Maglio Ornone che i verbali di violazione al codice della strada concorrano in maniera consistente e sistematica a rimpinguare le casse comunali certamente non si può contestare una legittima e corretta rilevazione delle infrazioni da parte dell'amministrazione comunale però i dati che ci arrivano circa le rilevazioni di accesso alla ZTL ci preoccupano soprattutto se i numeri dovessero essere confermati ricordiamo ai utenti che ogni varco di accesso deve avere una chiara segnaletica e che eventuali mancanze darebbero la possibilità di fare ricorso l'invito dunque è quello di verificare prima di pagare e ove sostenibile rivolgersi ai nostri uffici o contattarci attraverso il sito www.unionedeiconsumatori.it mercoledì 4 ottobre maxi operazione in Italia e in Germania contro il clan mafioso Rinzivillo che ha portato a 37 provvedimenti di custodia cautelare è in corso in Italia e in Germania una maxi operazione contro il clan mafioso Rinzivillo sono stati eseguiti dalla guardia di finanza dalla polizia e dai carabinieri 37 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti degli appartenenti al clan egemone a Gela gli arresti in Italia sono scattati in Sicilia nel Lazio in Lombardia Piemonte ed Emilia Romagna altri ancora invece in Germania e sono stati sequestrati i beni in società per 11 milioni di euro l'indagine della direzione distrettuale antimafia di Roma e Caltanissetta coordinata dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo ha visto la partecipazione della polizia criminale tedesca che a Colonia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari i 35 provvedimenti eseguiti in Italia hanno impegnato più di 600 persone tra finanzieri e carabinieri del comando provinciale di Roma e poliziotti della questura di Caltanissetta dall'indagine emersa una fitta rete di affari che il clan aveva creato non solo nella capitale ma anche al nord Italia soprattutto in Lombardia e all'estero in Germania e in Zivillo stavano infatti realizzando una rete per il traffico di droga stabilendo contatti con il latitante dell'andrangheta calabrese Antonio Strangio titolare del ristorante in cui nel 2007 avvenne la strage di Duisburg L'operazione ha portato in carcere il boss 57enne Salvatore Rinzivillo scarcerato nel 2013 dopo aver scontato una condanna per mafia tra i suoi complici un altro siciliano da anni residente a Roma Santo Valenti imprenditore ortofrutticolo che secondo quanto ritenuto dall'accusa avrebbe fatto pesare nei suoi rapporti al centro agroalimentare romano la sua amicizia con il boss tra i 37 arrestati anche l'avvocato romano Gian Domenico D'Ambra accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e due carabinieri accusati di accesso abusivo alle banche dati delle forze dell'ordine per ottenere notizie riservate da trasmettere direttamente ai Rinzivillo uno di due è anche accusato di aver svolto sopralluoghi finalizzati a un'estorsione ai danni del titolare di un bar di via Veneto Restituita allo Stato la villa confiscata al boss Tommaso Spadaro eseguito lo sgombero della villa che si trova a Ficarazzi è stata finalmente restituita allo Stato la villa confiscata al boss Tommaso Spadaro dal Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione con un decreto divenuto definitivo nel 2005 è stato infatti eseguito lo sgombero della villa che si trova a Ficarazzi formalmente intestata ad uno dei fedelissimi prestanome di Spadaro Giuseppe Tarantino e da questi occupata insieme alla sua famiglia L'ordinanza di sgombero emessa nel 2015 dall'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati non era stata ancora ottemperata dalla famiglia Tarantino sicché si è resa necessaria l'attivazione del tavolo di coordinamento in prefettura ed oggi è stato eseguito il rilascio della villa con l'intervento Interforce della Polizia di Stato dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Durante le operazioni è stata assicurata la presenza di personale medico del 118 preventivamente allertato Tommaso Spadaro elemento di spicco di Cosa Nostra meglio conosciuto come il re della calza è stato condannato a 30 anni di reclusione il suo ingente patrimonio è colpito sin dal 1998 da provvenimenti di prevenzione che hanno interessato svariati beni immobili e aziende in Palermo e province l'odierna operazione di sgombero è stata pianificata nell'ambito dell'attività svolta del previsto nucleo territoriale di supporto al prefetto che dal 2016 ad oggi ha consentito di restituire allo Stato 32 immobili confiscati a personaggi di spicco della criminalità mafiosa occupati dagli stessi o da loro familiari recentemente sono stati eseguiti i provvenimenti di sgombero di immobili confiscati a Salvatore Graziano Vincenzo Pipitone Angelo Reres Salvatore Orlando Innocenzo Ponziano Gaetano Lunnetto e Salvatore Danna lo scorso 29 settembre nel corso di una riunione del Nuclo sono state pianificate le attività previste per i prossimi mesi di ottobre e novembre finalizzate al rilascio già ordinato dall'Agenzia dei beni confiscati di immobili confiscati ad Andrea Di Matteo Calogero D'Angelo Girolamo Buscemi e Diego Di Trapani Grandi numeri per la sesta edizione di Blue Sealand 2017 l'Expo dei Cluster del Mediterraneo dell'Africa e del Medio Oriente Un minaggio credo assai positivo con risultati devo dire inattesi oltre 150.000 persone hanno partecipato a Blue Sealand 2017 58 delegazioni straniere 600 imprenditori presenti oltre 1300 incontri B2B questi sono dei numeri importanti ma poi c'è un numero speciale è il numero della presenza dei giovani delle scuole più di 600 ragazzi delle scuole hanno lavorato per costruire la sesta edizione di Blue Sealand a loro tutta la nostra gratitudine a loro tutta la nostra speranza su di loro una vera e forte speranza perché se tutti questi giovani anche i bambini partecipano a questo grande gioco che è Blue Sealand dove si sviluppano invece dei temi importanti per l'umanità l'economia circolare la lotta lo spreco alimentare la Blue e la Green Economy si capisce che stiamo parlando di temi in cui i giovani si avvicinano e si avvicinano con un approccio il disegno la musica le danze il cibo il cibo che è diventato un vero importante elemento di unione fra i popoli del Mediterraneo dell'Africa e del Medio Oriente un'iniziativa che nasce come un'iniziativa pionieristica e diventa una tradizione importante per Mazzara ma per il Mediterraneo dove tanti interlocutori si incontrano parlano di temi di geopolitica di economia parlano di dialogo interreligioso riescono a scambiare idee proposte progetti dove esponenti della politica del Parlamento del corpo diplomatico riescono a sedersi intorno al tavolo e a parlare di progetti comuni di pace di sviluppo di blue economy di green economy quindi tutto questo è diventato un grande patrimonio per Mazzara del Vallo grazie al distretto della pesca grazie all'impegno di Giovanni Tumbiolo grazie all'impegno dell'ambasciatore Vattani e di tanti altri che quotidianamente insieme all'amministrazione di Mazzara del Vallo hanno voluto portare avanti e sostenere questa idea folle che è diventata una bellissima realtà nel corso degli anni e che rimarrà un punto fermo nella tradizione non soltanto siciliana ma anche italiana di dialogo e di scambio su questi temi così importanti e così centrali per la vita del nostro paese e non solo giovedì 5 ottobre operazione della guardia di finanza Messina ha scoperto una maxi evasione fiscale arrestati quattro imprenditori ed un commercialista si chiama zero tasse la maxi operazione della guardia di finanza di Messina che ha portato all'arresto di un commercialista e di quattro imprenditori dopo che è stata scoperta una maxi frode fiscale e un vasto giro di fatture false la misura prevede la custodia cautelare in carcere per tre indagati e gli arresti domiciliari per altri due l'autorità giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro preventivo per oltre 23 milioni di euro su conti correnti e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati e alle società coinvolte nella frode nell'ambito dell'operazione delle fiamme gialle sono state denunciate complessivamente nove persone gli illeciti ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e banca rotta fraudolenta l'indagine è nata da un controllo fiscale eseguito nei confronti di una ditta di vendita di prodotti informatici ed ha fatto emergere l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alle frodi fiscali capeggiata da due fratelli imprenditori e da un professionista tutti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere altri due imprenditori invece sono stati sottoposti ai domiciliari questi ultimi ricoprivano formalmente la carica di rappresentanti legali di alcune società di comodo di fatto amministrate dai citati fratelli che venivano utilizzate per emettere fatture false a favore di altre società riconducibili all'organizzazione criminale le attività investigative hanno consentito di scoprire un sofisticato sistema di frode attuato tramite un vasto giro di fatture false tra diverse società legate agli indagati attivi nel settore del commercio dei prodotti elettronici destinati alla grande distribuzione nonché al commercio al dettaglio via web il meccanismo faceva leva sulle aziende cartiere dislocate nelle province di Messina Pesaro Roma Taranto e Treviso nonché in territorio estero Malta Romania e Slovenia gran parte delle quali gestite direttamente nel capoluogo peloritano garantito un elevato profitto rappresentato anche dall'IVA non versata all'erario in contemporanea con altre città italiane Foggia Bologna Milano Sassari Ostia si è celebrata l'undicesima edizione della giornata nazionale dello sport paralimpico a Palermo la manifestazione si è svolta in piazza Castelnuovo è una giornata dedicata allo sport per tutti perché noi abbiamo invitato circa 2000 alunni delle scuole palermitane e sono venuti sia gli alunni che hanno disabili e sia i compagni di classe per cui stanno provando gli sport adattati anche gli alunni normodottati sono stati quasi 15 le scuole presenti qua resteranno fino alle 12 poi rientreranno a scuola accompagnati con i pullman messi a disposizione dal comune di Palermo e poi nel primo pomeriggio si esibiranno invece gli atleti delle federazioni paralimpiche e i cittadini che occuperanno la piazza in questa splendida giornata gli sport sono tanti ne potete vedere dal tennis tavolo la pesistica poi abbiamo la scherma poi abbiamo lo showdown ci sono degli sport tipicamente paralimpici esclusivamente paralimpici c'è il wheelchair hockey abbiamo il basket in carrozzina abbiamo la vela abbiamo il tirassegno sono quasi tutte le federazioni paralimpiche presenti qua con uno stand con un'area riservata per poter promuovere il proprio sport lo sport per superare la disabilità lo sport non è che per superare la disabilità è molto impegnativo l'impegno del CIP che è diventato da poco un ente pubblico è quello di promuovere lo sport per tutti lo sport perché lo sport se sappiamo che fa molto bene a livello dei ragazzi normodotati lo fa altrettanto e forse di più per i ragazzi che hanno qualche problematica sia fisica che mentale in Sicilia va molto bene devo essere sincero lo sport paralimpico va bene dobbiamo incidere di più nelle scuole e questo è un lavoro che ci accingiamo a fare per il prossimo ciclo sportivo quadriennale diciamo l'impegno di far praticare lo sport anche ai ragazzi di sabato farli uscire da casa e frequentare le palestre come tutti gli altri ragazzi che a quell'età frequentano le palestre frequentano i centri sportivi e così via manca ancora questa cultura ma noi ci stiamo impegnando e questa giornata serve proprio a questo questa giornata serve a far conoscere che esiste anche uno sport paralimpico gestito dal cibo presentata a Palermo canti di Cala Novella l'opera composta da Mario Modestini interpretata dal soprano Letizia Colaianni in omaggio alla poesia di Lucio Piccolo una raccolta di brani dedicata a Lucio Piccolo Sì, sono sei brani evocanti la poesia di Lucio Piccolo con un soprano un obbe un clarinetto e un fagotto che era l'ensemble quella quinta ensemble la cantante del disco è il famoso soprano Letizia Colaianni Perché questa scelta di Lucio Piccolo e della sua poesia? Io sono un amante di poesia e particolarmente di Lucio Piccolo che chiamo molto la poesia di Lucio Piccolo tra l'altro il presidente che adesso non c'è più Bent Parodi il presidente dell'associazione Lucio Piccolo è stato lui a sollecitarmi questa opera e mi sono attenuto solamente al ritmo della poesia proprio alla battitura al ritmo della poesia di Lucio Piccolo inventando delle situazioni melopeiche aderenti al linguaggio della musica Inserendo anche il fagotto Sì, il fagotto perché praticamente il presidente mi aveva regalato un libro di Lucio Piccolo che era intitolato L'obbo e il clarino e allora per poter fare per amalgamarlo meglio ho messo il basso e quindi era il trio obbo e clarinetto e fagotto Questa opera è prodotta da Panastudio ma un fil rouge lega il maestro Modestini con Francesco Panasci Sì, sì, sì c'è una forte amicizia e anche un rapporto di stima ho fatto molti lavori lui ci ha creduto abbiamo fatto federicea lavori anche molto forti molto e molto ben criticati a livello nazionale Otto opere prodotte dalla Panastudio al maestro Modestini ma cosa vi lega? Ma intanto ci lega una profonda amicizia antica amicizia dove appunto Mario da grande compositore riconosciuto e spesso non riconosciuto dalle istituzioni si è sempre come dire posto il problema della produzione noi ormai da oltre 20 anni il gruppo Panastudio produce musica produce dischi produce opere e riscontriamo in Mario una persona molto molto importante dal punto di vista della musica popolare quella colta quella contemporanea io ritengo che Modestini oggi è il vero rappresentante della musica popolare di livello in Sicilia ricordiamo che tra l'altro caro Massimo che è proprio Modestini è stato l'ultimo dei accompagnatori di Rosa Balistreri è stato suo amico ha vissuto con lei oggi rappresenta anche il premio Rosa Balistreri ma tutto questo non basta Parastudio si occupa di produzioni si occupa di produzioni a 360 gradi in questo caso è una produzione musicale culturale che rappresenta anche uno spaccato di quello che è oggi il mondo culturale in Sicilia stiamo attraversando un momento difficilissimo anche dal punto di vista della crisi economica che ha coinvolto e sconvolto gli imprenditori culturali e del turismo siamo in piena campagna elettorale dove tanti nutrono questa passione tra virgolette passione verso il turismo e la cultura dicendo che potrebbe essere il volano dello sviluppo in Sicilia ma noi dobbiamo dire oggi concludendo questa intervista che di cultura e turismo in Sicilia oggi si muore venerdì 6 ottobre ultimo sondaggio ad un mese esatto dalle elezioni regionali in Sicilia Musumeci allunga secondo Cancelleri Micari terzo queste le previsioni di Index Research Nello Musumeci candidato nel centro destra avanti di sette punti rispetto a Giancarlo Cancelleri il candidato al Movimento 5 Stelle Fabrizio Micari del PD terzo lo rileva l'ultimo sondaggio di Index Research realizzato per Piazza Pulita la trasmissione della sette condotta da Corrado Formiglia ad un mese esatto dalle votazioni in Sicilia alla domanda se ieri si fossero tenute le elezioni per eleggere il Presidente e la sua regione per quale dei candidati avrebbe più probabilmente votato il 37% degli intervistati ha indicato il candidato del centro destra mentre il 30% avrebbe votato il rappresentante il Movimento 5 Stelle Fabrizio Micari del Partito Democratico sarebbe in terza posizione un quinto degli intervistati avrebbe votato per lui Claudio Fava di MDP e si al 10% nelle intenzioni di voto il Movimento 5 Stelle rimane il primo partito anche se la distanza al PD si accorcia sempre di più arrivando ad un solo punto testa a testa fra Lega Nord e Forza Italia alla domanda se ieri si fossero tenute le elezioni politiche lei per quale partito avrebbe più probabilmente votato il 26,6% degli intervistati ha indicato il Movimento 5 Stelle il 25,5% il Partito Democratico Lega Nord perde qualche centesimo di punta e si ferma al 14,6% a poca distanza da Forza Italia al 14,2% Fratelli d'Italia inchiodato al 5,4% per quanto riguarda le motivazioni di voto nel popolo del PD è il riconoscimento in determinate idee e valori che induce oltre la metà degli elettori a fare questa scelta il 58,8% il 28,2% degli intervistati sceglie il Partito Democratico perché ritiene sia garanzia di cambiamento il 15,2% perché ha fiducia nei suoi leader 8,6% pensano possa avere la possibilità di salvare il paese solo il 4% sceglie il PD per la competenza la garanzia di cambiamento invece è il motore che induce quasi la metà dei suoi elettori a preferire il Movimento 5 Stelle il 46,6% una percentuale poco più bassa indica come motivazione principale l'onestà 1 su 10 crede che il Movimento 5 Stelle possa salvare il paese mentre il 7,4% si riconosce nei suoi valori il 6,9% lo preferisce perché difende il paese rispetto all'immigrazione il 45,6% degli elettori scelgono forse Italia perché si riconoscono nei suoi valori un quarto perché ritiene che Forza Italia difende al fisco e abbassa le tasse il 22,8% perché garantisce i miei interessi l'8,1% crede nei suoi leader e solo il 5,2% vota Forza Italia per competenza anche per la Lega Nord la percentuale più alta dei suoi elettori crede di identificarsi nelle sue idee e valori il 31,4% ma in misura minore rispetto a Forza Italia è molto più alta invece la percentuale di chi mette la croce sulla Lega Nord perché difende il paese rispetto al fenomeno dell'immigrazione il 26,8% un quinto degli intervistati pensa che la Lega sia garanzia di cambiamento il 18,6% crede garantisca i suoi interessi il 12,4% pensa la Lega abbassi le tasse e difenda dal fisco l'Europarlamento dice sia alla nascita della procura europea anticrimine si tratta del primo organo sovranazionale che ha un autonomi poteri di indagine la nascita del primo organo dell'Unione Europea dotato di autonomi poteri di indagine su scala sovranazionale rappresenta una svolta storica nella lotta alla criminalità transfrontaliera così l'eurodeputata siciliana Caterina Chinnici commenta il voto della plenaria del Parlamento Europeo che a Strasburgo ha dato il definitivo via libera all'istituzione della Procura Europea del dossier Caterina Chinnici è stata relatore per il gruppo S&D all'interno della Commissione Controllo Bilanci resta il rammarico per la mancata adesione da parte di alcuni stati membri e per un regolamento che non rispecchia tutte le ambizioni iniziali addette in aula all'esponente dei socialisti e democratici ma la Procura Europea è certamente tra i maggiori progressi mai compiuti dall'Unione Europea in campo penale molto importante l'inserimento delle frodi IVA nella sua sfera di competenza così come le norme su garanzie procedurali e protezione dei dati personali l'ufficio si occuperà inizialmente solo di reati contro gli interessi finanziari dell'Unione spesso compiuti dalla criminalità organizzata ma l'auspicio è che nel suo mandato sia presto incluso il contrasto a tutta la criminalità grave di carattere transnazionale la Procura Europea contribuirà al rafforzamento dello spazio di libertà giustizia e sicurezza che stiamo costruendo per affrontare le crescenti minacce disco verde dalla plenaria dell'Europarlamento anche al dossier su sistemi carcerari e condizioni di detenzione al quale Caterina Chinici ha lavorato come relatore in commissione giustizia e libertà civili condizioni di vita più dignitose nelle carceri azioni formative per il reinserimento sociale post pena dei detenuti misure alternative alla detenzione quando funzionali a prevenire la recidiva e adeguata considerazione della vulnerabilità dei minorenni sono i principali aspetti al centro degli emendamenti proposti da Caterina Chinnici e poi accolti nel testo finale il documento non si limita a evidenziare i malfunzionamenti riscontrati ha sottolineato in aula l'eurodeputata siciliana ma individua anche linee guide e buone prassi da attuare negli istituti di pena degli stati membri è indispensabile affrontare il problema del sovraffollamento che oltre a comportare spesso violazioni dei diritti umani ostacola la finalità rieducativa della pena anche se la gestione dei sistemi penitenziari e di competenza esclusiva degli ordinamenti nazionali l'Unione Europea può e deve svolgere un ruolo di salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dei detenuti che sono innanzitutto esseri umani ciò costituisce un presupposto essenziale per un percorso di recupero efficace come dimostrano i dati raccolti e inseriti nel rapporto ugualmente indispensabile il contributo del personale di polizia penitenziaria al quale vanno garantite risorse e formazioni adeguate nessuna ingerenza era solo un consulente così a risposta alle domande delle GIP Giuseppe Ferdico il re dei detersivi arrestato insieme ad altre quattro persone con l'accusa di intestazione fittizia di beni interrogatorio davanti al GIP per Giuseppe Ferdico il re dei detersivi è arrestato martedì scorso insieme ad altre quattro persone tra cui un amministratore giudiziario con l'accusa di intestazione fittizia di beni secondo i PM continuava a gestire grazie all'aiuto del socio occulto Francesco Montes e alla connivenza dell'amministratore giudiziario Luigi Miserendino un centro commerciale e un supermercato a Carini nonostante gli fossero stati confiscati contro l'imprenditore sotto processo in appello per mafia e riciclaggio dopo una soluzione in primo grado decine di intercettazioni che secondo i magistrati dimostrano in modo inequivocabile come Ferdico avesse il totale controllo delle attività commerciali e ingerisse nella loro gestione occupandosi di tutto dai fornitori alle assunzioni nel corso dell'interrogatorio di garanzia sostenuto di aver avuto solo un ruolo di consulente vista la conoscenza che aveva delle attività e cioè di avere messo a disposizione di Montes solo alcune sue conoscenze avendo saputo che sia il centro commerciale che il supermercato non navigavano in buone acque nella speranza che i beni nel tempo gli fossero restituiti Ferdico inoltre ha anche sostenuto di non avere investito denaro nelle attività e di non aver percepito alcun guadagno per la sua attività di consulenza adesso bisognerà aspettare le dichiarazioni dell'amministratore giudiziario che per la procura era consapevole del ruolo del commerciante non avrebbe fatto nulla per impedirgli di gestire quei beni anche a suo carico diverse intercettazioni in cui diceva il direttore del centro commerciale che lo sollecitava a prendere posizione di non voler problemi l'ho inventato io il marchio del calcestruzzo della legalità rivendicava Misenendino stesso ai convegni di Libera ai quali partecipava era stato lui da amministratore giudiziario a trovare una soluzione per il salvataggio della calcestruzzi ericina di Trapani una cooperativa di lavoratori sostenuta da Libera un esempio a livello nazionale dell'antimafia che si impegna per la riutilizzazione sociale dei beni sottratti alle mafie adesso però le intercettazioni del nucleo di polizia tributaria parlano chiaro Misenendino sapeva che un bene confiscato veniva gestito dall'ex proprietario e non è intervenuto non ha segnalato il caso né al tribunale né all'agenzia dei beni confiscati eppure il giudice che gli aveva affidato l'incarico nel 2013 gli aveva dato delle indicazioni ben precise questo scriveva Silvana Saguto prima di essere travolta dallo scandalo bisogna vietare ai ferdico di accedere ai locali in cui si svolgono le imprese e anche di sostare nei prezzi degli esercizi commerciali ed è tutto grazie per essere stati con noi vi auguro ancora una buona domenica arrivederci a presto a presto